Grazie Raging, grazie Nicola Grazie bellissimi Grazie mille, buongiorno Oggi non c'è Morelli che non sta tanto bene E ci siamo a noi Ci siamo a noi Stasera si c'è FIFA Non c'è Morelli Io l'ho aperto Mi ha fatto un leggero caricamento un po' più lungo Ma era tutto a posto Grazie a Ollo, ciao bellissimo Come stai? E poi Edgar Allan Poggers Questo è nuovo però Ti sei modificato Edgar Allan Poggers Grazie anche a chi altro Ho visto un'altra cosa Sono pazzo? No, era solo lui Ah ragazzi Questa mattina sono Allora, stamattina mi sono svegliato presto Perché Francia è andato al corso Mi sono svegliato presto per quello E poi mi sono messo a vedere Di gestire un po' i miei capelli per vedere domani come farmeli Perché non faccio in tempo a tagliarmeli Anche perché oggi è lunedì e sono tutti chiusi Ieri era domenica Poi sabato E sabato è stato dei miei Domenica è stato a pranzo dei nonni di Francia Insomma, casini E non sono riuscito a fare niente E mi sono provato a guardare un po' come sistemare i capelli E infatti se vedete sono ancora Cioè non li ho fonati bene Sono un po' bagnaticci A parte che con sta luce sembra che siano sempre bagnaticci Però vabbè Dovrei mettermela di fronte così come una volta E Avevo ancora le ciocche bagnate davanti E mentre mi stavo asciugando Veloce perché ho detto Poi se no è un casino con la live eccetera Mi sono tirato delle frustate Con le ciocche bagnate negli occhi Quest'occhio qui è rossissimo Qua non lo vedete ma Proprio pam Dentro la pupilla E vabbè Andata così Quando uno è pirla d'altronde E in tutto ciò non ho trovato un modo per farmi i capelli Quindi dopo riprovo a mettermi la lacca A fare qualcosa Di sistemarmi un po' meglio Ciao Le Devo sistemare anche le basette Che sono troppo grosse Le voglio fare più leggere Più fine Siamo nel canale di Marco Makeup Artist No no non c'entra niente Ciao Le Ciao Tra l'altro dopo facciamo Fortnite Anche con Vector Quanto bello il quadro di Halloween Quello del tappo dici Sì molto figo Ma è tutto figo Grazie Tozzolo Grazie Tozzolo Ecco perché i pelati sono i migliori Beh hanno sicuramente È uno dei vantaggi Sì sicuramente è top Beh in realtà ci sono più vantaggi che svantaggi Io ripeto ci sono sempre più vantaggi che svantaggi Dipende come ti ci vedi tu Perché se ti ci vedi bene Se stai bene ovviamente Se ti ci vedi bene sono solo vantaggi Perché Sparmi soldi Non hai problemi appunto Di lavarli Pettinarli Cioè Meglio di così Non te li possono tirare Quindi non ti posso far male i capelli Sì Ollo Ma tanto è un giorno Cioè lo faccio per domani Che sono al matrimonio Non lo faccio mai Non la metto mai la lacca La metto soltanto un po' Quando ho i capelli corti Per tenerli su Oppure uso la Più che la lacca La roba che fa bene Che mi dice sempre il mio parrucchiere La La Ecco quello Come si chiama La Non mi viene la parola Quella bianca Sta mettere il cappellino La cera Però una cera particolare Che mi ha consigliato lui Che non fa danni ai capelli Addirittura adesso c'è la polvere Cioè la Lui mette Mi mette una polvere in testa Che non rovina i capelli Ma ti fa Davo Che ti sistema i capelli No però non la uso spesso La cera A me fa ancora ridere Che in un video di Suri Recente Gli abbiano scritto Aggiusta le luci Che il riflesso della pelata in webcam Da fastidio Però potrebbe essere vero Per quanto sia Divertente Tragicomica Un attimo Che stanno frenando Un altro evento inutile Non lo faremo Non lo faremo A meno che non è una roba estremamente figa Io non lo apro più antes Perché eravate in 10 a guardarlo Cosa fa? Cioè cosa c'è Le notizie di Pasqui Ha messo le notizie Pasqui Aspetta che metto lo stop Al televoto Per far Ah c'è tutta la mappa Carino però C'è tutta la mappa In fiamme Le persone Nei reality Ma è basato sul fuoco Ma non mi sembra C'è nulla di che Chi è? Scusate Mi sono perso Cos'è che stavi dicendo? Stavo scrivendo una cagata No è l'evento di Ant Ah vabbè Però Vabbè che dura fino Tra l'altro dura fino a Fine novembre Quindi c'è tempo Sorcio Anche Allora Io non l'ho comprata Io me la faccio mettere Quando vado da lui Perché non so quanto costa Immaginavo che Essendo una nuova tecnologia Tra virgolette Una cosa nuova Costasse un po' di più Però non Dabo non c'entra Hai già detto due cagate Su due che hai scritto Vediamo Vediamo Quando andiamo avanti Adesso Intanto Faccio partire la sigla E cietto Eccoci 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 E Come state? Tutto a posto? Tutto a posto Spero di sì Spero di sì Allora Partiamo con le notizie Più belle del web Intercontinentali Magistrali Oggi dovrebbe No no Tutto a posto Sorcia Ho visto che ce ne sono un po' Però manca cinese Mi sa Ai 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 Cinese in Cina Fa casino Oppure hanno staccato Tanto non so se arriva Luke Stamattina anche Gli hanno staccato internet Ah già è vero Che lui sta facendo le cose illegalissime Allora Partiamo da Seer Che mette Solo per il titolo No me lo apre nel secondo schermo Aspetta Devo sistemare una cosa Non mi fate incazzare Eh Deve aprirmele Qui È cribio Acqua Farina E Mastantonio La Salernitana In pizzeria Sigla il patto Salvezza Un po' troppo Eh giornalisti Del calcio italiano Un po' troppi giochi di parole Un po' troppo oltre Anche meno Anche meno Poi andiamo Da bambino Marcellino Si chiama adesso I test di avviso Di emergenza Degli Stati Uniti Hanno esposto Accidentalmente Diversi Amish Per il possesso Di un telefono E esposto Nel senso Gli hanno esposti Alla polizia No Tra di loro Perché teoricamente Sposti tra di loro Non devono avere Non si può Ah che storia Ah infatti L'articolo tutto in inglese Ha fatto un sunto Bambino al volo Che storia Per l'allarme Delle notifiche Del pippo Boh Vabbè Poi abbiamo DT Che T Amat Non lo so O T-Wats O T-Wats Un grande Anche lui Chi lo sa T Un saluto a T Ragazzi Le modelle Possono sorridere E T-Wats Le modelle Possono sorridere Tendenzialmente no E quando lo fanno Sembra strano Ma non è sempre Stato così Ma sembra strano Per chi Chi l'ha detta Questa cosa La sfilata Dell'Oreal Di domenica scorsa È stata una delle più Commentate Riprese della settimana Della moda Di Parigi Di quest'ottuno Previa dell'altissima Concentrazione di Cerebità E hanno riso Effettivamente Però loro Cosa sto leggendo In generale Per molto tempo Sorridere in foto È stata considerata Una cosa per poveri Malati mentali Obbriachi Ecco perché Cioè quando Sorridevi in foto Ti dicevano che eri malato O che non stavi bene Probabile Ecco perché tutti I ritratti di un tempo Dice Stia serio Erano tutti Impostati Duri Ma Io e io Ah Cacchio Stavo pensando che io Quando faccio la foto Faccio sempre la faccia cattiva Forse perché inconsciamente Ho paura di questa cosa Tanto pensano di me Comunque che sono malato Quindi non importa Vabbè Poi c'è tutto l'articolo Che analizza La moda E quando hanno sbloccato Il fatto di sorridere Vabbè Ce ne frega molto Cioè magari anche interessante Però adesso non leggeremo L'articolo Andiamo sempre da Bambino Marcellino Che mette McDonald's Trova un pezzo di termometro Nel McChicken Il rimborso beffa Buono da 15 euro O un altro che Un altro panino Cioè Questo ha trovato Un pezzo di termometro Nel panino Nel McChicken E gli hanno dato 15 euro di bono O un altro panino No un altro termometro Non credo Allora Vorrei farvi vedere la foto Ma purtroppo c'è un video Spam di una cosa E non so come farlo vedere Perché si capisce niente Quindi vabbè A parte che la foto È il KFC Quindi è sbagliato tutto La coppia Decide di raccontare Sui social Un ex manager Della catena americana Di food Ha spiegato Che i dipendenti Utilizzano il termometro Per controllare Due o tre volte al giorno La temperatura di alcuni prodotti Specialmente le crocchette E gli hamburger di pollo Quindi magari Mentre cronometra Cioè cronometravano Mentre controllavano Si è staccato un pezzo E esploso Sì però Porco Giuda Ma poi i panini Li vedi sulla Sulla piastra Cioè vedi se c'è qualcosa Che non va Vabbè Metti caccia Dal termometro del sedere Ma dubito Che nella cucina Si stessero provando Nel culo La febbre Abbiate pazienza Non era una casa loro Però Sarebbe strano Ma poi li vedo Cioè nella cucina Noi che siamo i clienti Vediamo cosa c'è Dentro la cucina Vedi uno a pecoroni Sulla piastra Che si mette le cose Nel sedere Cioè lo vedi subito Non è che Può essere antisgamo No non credo sia quello Al mercurio Non penso proprio Sta di fatto che È pericolosissimo Ma è Come rimborso Mi sembra proprio una cacata Solo 15 euro O un altro panino Potevano scrivere meglio Il titolo comunque Vabbè Andiamo avanti Bulgaria Mistero Lo strano caso Del cadavere mummificato In appena 16 giorni Il cadavere di un uomo È stato ritrovato in Bulgaria Completamente mummificato In appena 16 giorni Credo che la foto sia vera Non ve la mostro Siedono le mani E altre cose Normalmente Quando un essere umano Muore i suoi tessuti I molli si decompongono In fretta E con il tempo Quello che rimane del cadavere Sono ossa e denti In particolari condizioni Però in seguito All'intervento umano Un corpo può andare Vabbè Le solite cose Che facevano anche I tempi degli egitti Grazie Matt Grazie mille Amici mi raccomando Rinnovate Tra poco tra l'altro Tra Quanto manca 69 tipo 69 sub Siamo al record Se volete fare una pazzia Però non c'è bisogno Come sapete Siamo già Ampiamente Oltre le nostre previsioni E Qua c'erano condizioni Sbagliate No Non è vero Qua dice che Nonostante Tutte le condizioni Anche fatte Dall'umano Serve comunque Un po' di tempo Per mummificarsi In questo caso È successo in 16 giorni Non si sa perché L'ipotesi è che Il vento sollevato Dai treni di passaggio Abbia contribuito A far evaporare Rapidamente I flui di corporei Favorendo la mummificazione Ma anche questo Non spiega le temperature Teoricamente troppo basse Quindi non si sa È un mistero Non hanno trovato Una spiegazione scientifica Adeguata Al fatto che ci fosse Questa mummificazione In 16 giorni Un grande Guinness World Record Di Sofia Che però Non lo saprà mai Purtroppo Poverino Andiamo avanti Le antiche incisioni preistoriche Insegnano a riconoscere Le orme di animali Ah vedi Hanno trovato C'è questo muro Dove si vedono Vari tipi di Tipo degli zoccoli Delle Zampette Mauro Cinque abbonamenti Grazie mille Non vedo Se hai vinto Il pisello d'oro Eccolo qui No No Purtroppo no Purtroppo no Grazie mille però Mauro Sei gentilissimo Grazie 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 Sì hanno trovato Aspetta Questo ve lo posso far vedere Hanno trovato Queste Queste scritte Questo muro Con tutte le Zampettine Di tutti gli animali Insomma tipo Questi sono tipo Zoccoli Questi sono tipo Di qualche uccellino Sotto c'è No non c'è un elenco Ne sono dei numeri Ah ecco qua Vedi Però non c'è A cosa riferito Sì qua c'è Si vedono giraffe White rhino Black rhino Oryx cos'era Che non mi ricordo La gazzella Scritto qui Osterica Dai Interessante Comunque carina Come cosa Vediamo un po' Il pianeta mercurio Si fa sempre più piccolo Dalla sua nascita Oltre 4 miliardi E mezzo di anni fa Il diametro di mercurio Diminuito di circa 7 chilometri A causa del raffreddamento Del pianeta Si sta restringendo Si E un nuovo studio Suggerisce che il fenomeno Sia ancora in atto Tra l'altro che bello Cioè da vedere così È fighissimo Bisogna vedere Se è effettivamente vero così Ah beh magari L'hanno modificato O una ricostruzione Si Vabbè Si si sta restringendo Semplicemente Per la temperatura Poi abbiamo Il signor Sorge Questa è ironico La stampa Anzi la zampa Miracolo di Tiger Gatto salvato Dopo aver mangiato 43 elastici per capelli Questo potrebbe essere Tranquillamente Ori Che è fissato Con gli elastici per capelli La gatta Tiger Ha superato Un'esperienza da brividi Questo piccolo felino Con un debole Per gli elastici per capelli Veramente Ori Aveva segretamente rubato Quegli appartenenti Alla sua proprietaria Sì anche Ori Fa così Va sul comodino Li ruba a Franci E lo faceva anche Con mia mamma E mia sorella Nella casa vecchia Eccoli qua Guarda si vedono Si vedono Tutti gli elastici Che aveva in bocca Guarda qua che lavoro Boh Un piccolo pirla Un piccolo pirla Andiamo avanti ancora Con Bambino Marcellino Che mette Le guardie di sicurezza Filippine Adottano i gatti randaggi Sono antistress Va bene Va bene Brave guardie E poi abbiamo Ruba il gatto Dei vicini Queste notizie sui gatti Le ultime tre Ruba il gatto Dei vicini E rifiuta di restituirlo Devono intervenire i vigili Il felino sequestrato Ma io ti spacco la faccia Tu mi Prendi il gatto Non me lo ridai Ti rompo i vetri di casa Uno per uno Finchè non me lo ridai Facciamo così Potrebbe essere Comunque una cosa No? Un Un'idea Per fartelo dare Facciamo così Se rifiutate Di fornire indicazioni Al riguardo Il padrone Allora dice di chiedere Aiuto ai vigili I quali hanno scoperto Che il gatto Si trova effettivamente Nelle mani Della 47enne Sì sì Non c'è problema Ogni minuto che passa Rompo un vetro Buco la macchina Andiamo avanti così Finchè non mi Il gatto Poi Mi fanno la multa Ai vigili Però intanto No? Non sto scherzando Ovviamente Comunque dicono Che non è un fenomeno raro Era già successo Che rubassero I animali domestici Per i loro tornaconti Le loro caccate Io trovo Abbastanza assurda Questa cosa qui Che non Cioè Non c'entrano niente Gli animali Con sta roba qua Non vedo perché Devi fare il bastardo E Mauro Perché hai litigato Vuoi fargliela pagare Quindi prendi il gatto E Ma lei lo voleva rivendere Se magari era un gatto di razza No ma lei diceva Però Sì perché poi lei diceva Che non ce l'aveva Ah E quindi Infatti i vigili Sono entrati a casa Di forza E hanno visto Che ce l'aveva lei Invece Quindi Poi è chiaro Che se tu Reagisci Poi passi dal torto tu Però ti Certo ti incazzi No poi Gli animali Sono molto Pezzicore No E quindi poi Uno si incazza Comunque non importa Ciao Luco E se L'Urube Gli fa male Però comunque Non dà bene Grazie Pinco Non è Questa non è la legge Mauro Te lo sei inventato tu Vuoi leggerla tu La notizia che hai messo tu Luke Molto Particolare Il titolo Dove Praticamente Il crudino Dice il suo paese d'origine Perché la produzione Mi lascia crodo Ah questo l'avevo letto io Questo l'avevo letto io La cosa che Mi ha fatto ridere Cioè la cosa che Scusami Non mi ha fatto ridere La cosa che avevo capito io E che toglievano la mascotte Invece no La mascotte La tolgo La scimmia Appunto Questa fabbrica Di Non so quanti Beh Dove fanno il crudino Che si trova a crodo Ma Già da un po' Quel crudino Veniva fatto lì Ma la fabbrica Apparteneva ad un'altra società Sì E E quindi Però questa società Non hanno più La camparia E questa società Non hanno rinnovato Il Il contratto E quindi Per quello Cambierà posto Ma non va tanto lontano Per andare a nuovi liure Ma Tanto si chiamera sempre Crudino Perché non ha senso Alla fine È nato lì Quindi ci sta Comunque si chiama il crudino Ma a parte che anche a livello di marketing Non ha senso cambiare il nome ormai Quindi Non è bello Chi lo sa che Il crudinato a crodo Cioè Ma tra l'altro dicono che Nonostante questi spostamenti Eccetera Non ci saranno esuberi O licenziamenti Nello stabilimento di crodo E quindi No perché già Appartiene già Perché è già da un'altra parte Sì In un'altra società Quindi magari è già stato Cosa fare di nuovo Nessuno ha perso lavoro Dai Che loro fanno Questa fabbrica di crodo Fa Lemon soda E orange soda Quindi Cavano in piedi Che schifo Novi ligure Non lo so Io lo conosco solo per i delitti Quindi non Non mi pronuncio Uno ce n'è stato Uno sì Vabbè Andiamo avanti con Chi l'ha messo questa qua Sempre Sorcio È sempre del messaggero Che non posso leggere Ragazzi approcciano quarantenni Spiaggia Ostia Lei li interroga su Manzoni Pensano solo ai muscoli E devono succare Non leggo Non leggo più Così Andiamo sempre da Il signor Atto Organizza un rapporto a tre Con un'altra donna Per il compleanno del marito Poi il colpo di scena Ho chiesto il divorzio Ora vivo con lei L'avevamo già letta Mi ricordo Me la ricordo Che aveva organizzato Questo rapporto a tre Poi lei è andata Con l'altra E lui è rimasto da solo Emma le coppie aperte In questo caso Alla Andiamo avanti Con Bambino Marcellino Sempre che ci mette una notizia Il Corriere La conferma degli storici dell'arte Bansky e Robin Gunnigan Sì perché c'è una storia di Dove hanno fatto causa Bansky Per scoprire chi era E c'era l'idea di Che hanno capito chi fosse Ah E purtroppo non ce l'ho informato Ah sì Non ricordavo nemmeno Che dovevano fare causa Per scoprire Chi era Boh Non me lo ricordavo Bambino Ultima notizia di bambino Poi c'è la notizia di Pasquenstreet Mamma Ho ordinato due bottiglie di vino Da 22.000 euro Ma pensavo che fossero 22 Non ho soldi per pagare E la mamma sì Lui pensavo fossero 22 euro Invece erano 22.000 E ha ordinato due bottiglie di vino Da Tra l'altro due bottiglie Perché qua c'è scritto Due bottiglie di vino Da 22.000 euro Ma a testa Quindi sono 44.000 euro Sì Che sotto c'è scritto Che non ha 44.000 euro Per pagare Quindi ne ha ordinate Erano 22.000 a testa Per bottiglie La madre Ebbene sì Ha risposto Hai un problema Sì 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 mamma Se lo scambio su Whatsapp Non mi siamo molto Se lo scambio su Whatsapp No ok È una notizia nata Da uno scambio Ah vabbè Allora secondo me È fachissima O comunque potrebbe Essere fake Altamente Ha risposto Alla Chi si è detto Figlio mio Hai un problema Grazie mamma Non dico neanche Come è andata a finire Grazie Piergigione Aspetta Il problema è rimasto Quindi Angela Ha chiesto aiuto al papà Tuttavia anche il genitore Non sembrava disponibile A sostenere la figlia Dopo la ragazzata E ha risposto Con delle emoji A me sa tanto di Una cacata Questa qui ragazzi Grazie Piergigione Buongiollo Anche a te Non lo so A me sembra una cacata Tutta la notizia Però La bottiglia da 20.000 euro Non è che ce ne sono così tante In questo Grazie Fard Cioè in che cazzo di posto Sono andati Ma magari l'ha fatto da un sito Online Voleva farselo arrivare a casa E ha visto male Ma secondo me è fake Lascia stare Secondo me è una cacata Il padre ha risposto XD lol As the rot Allora Partiamo con le notizie Di Pasqui Industry Mio papà Il secondo papà Oggi un po' di origini Un po' Alle origini con MSN Allora Partiamo Prima le due di MSN E poi ci sono le notizie Le sue solite Della rassegna estera La Selesao Dei sacerdoti Alla panchina corta Ritiro ad Alassio Non c'è altro Di interessante Nel link Dice il nostro buon Pasqui Sì La squadra di calcio Dei sacerdoti Non ha tanti cambi Un casino Quindi Ritiro ad Alassio È andato ad Alassio Ritiro ad Alassio Tanto sostanto Ad Alassio Carino dai Carino Roma Il vandalo del Colosseo Pronto a pagare Ma non ha Liban Non ha detto Nel TG anche ieri Che non ha Liban Ha detto pure Quello che gestisce Il Colosseo Non gli sta dando Liban E quindi non può pagare Boh Non ha modo Di appunto Pagare i soldi Che vuole pagare Quindi se vuole pagare La multa Non è possibile Non è possibilità Do a farlo Va bene Se gli danno la mora Perché non paghi in tempo Eh ma Lì a quel punto Però non c'entra niente lui Se non gli danno le cose Cioè lui ha fatto la cacata La deve pagare Però se non gli danno La possibilità Voi che deve fare uno Gli do il mio Poi ce la sbrigiamo No Sorcio Meglio di no Partiamo con le notizie Della rassegna estera Abbiamo La prima notizia è USA Vi ricordate l'anno scorso Della competizione Sugli orsi Più in carne Per prepararsi a libernazione Che tra l'altro Fu al centro di uno scandalo Quest'anno l'evento È a rischio per via Dello Non si sa Del governo Dello Del governo Non si sa Ma manca la parola principale Eh sì Non si sa Che non permetterebbe All'ente del parco nazionale Di promuovere l'evento Via social Non si sa Non si sa Pasqui Cos'è l'ente Dello Non ti preoccupare Pasqui Industri Nazionale Poi abbiamo Seconda notizia Alabama USA Non è la prima volta Che vi parlo di libri censurati Questa volta Nella lista dei possibili libri Da censurare È finito un testo Di Marie Louise Gay Per via di possibili contenuti Sessualmente espliciti Peccato che il libro Per bambini Chiamato Read Me Story Read Me Story Stella Non ne contenga Secondo il direttore Il libro è finito In questa lista Per via del cognome Dell'autore Ah perché si chiama Gay Si chiama Gay Quindi per sbaglio L'hanno messo nei libri C'è scritto Gay Perché è scritto Gay Come Gay Proprio E quindi magari Come Rudy Sì esatto E quindi È vero che Rudy Gay Si chiama Gay Effettivamente in quel modo Vabbè È un piccolo Un piccolo errore Ragazzi Terza notizia Borro Che non è Esprit Che chiama Morro Ma è proprio Borro Middlesbrough In UK In un negozio Che vendeva sigarette elettroniche E alcol ai bambini È stato trovato Un topo morto Verrà chiuso per tre mesi Ma scusate Non è più strano Il fatto che esista Un posto che da Che vende sigarette elettroniche E alcol ai bambini Piuttosto che Il topo morto dentro Quindi verrà chiuso per tre mesi Perché c'è un posto Che vende alcol E sigarette elettroniche Ai bambini Sono stunnato Dalla parte precedente Io Non da quella successiva Chiuderanno il topo Sì sì Il posto è tutto a posto Vabbè Non lo so ragazzi A quanto pare Si può vendere Alcol ai bambini Per favore Facciamo qualcosa Governi mondiali Quarta notizia Chicago USA Almeno mille volatili Sono stati trovati morti Avrebbero colliso tutti Contro lo stesso edificio Nello stesso giorno Quindi uno stormo È andato È andato contro Un palazzo È ammazzato Sono morti No ma Comunque la notizia di prima È proprio specifica all'inizio Che era un negozio Che vendeva Vaporizzatori illegali A minorenni Quindi già faceva cose illegali Ah illegali Ok Ma scusa Allora Perdonami Tre mesi le mie palle Dovevano chiuderlo Totalmente Non è chiuso per quella Ma è chiuso per altre cose Verrà chiuso per tre mesi Ma chiudilo per sempre Illegale Vende le cose L'alcol ai bambini Li fa sbarellare Sì comunque Gli uccelli sono morti tutti Quinta notizia UK Si è svolto Il processo relativo A un uomo Che entrò Armato di balestra Per uccidere La regina Elisabetta Seconda A Natale del 2021 A spingere il signore Nel compiere il crimine Fu una chat Con una fidanzata E' stato condannato A nove anni di prigione Uno screenshot Della conversazione Presente nel link No Eccola qua Io Non so nemmeno Come commentarla Questa qui ragazzi Vabbè Sì palesemente Un uomo disturbato Per carità di dio Dal principio Ma anche se era Una fidanzata vera Che gli diceva Vai uccidere la regina E non la IA Era un uomo disturbato Però vabbè Oddio Sesta notizia Saskatchewan Canada Saskatchewan Saskatchewan Gli abitanti dell'area Sono preoccupati Da un culto Chen Da un culto Chen Si è formato Non ho capito Che si è formato Non sapeva No poverino La fatta di fretta Magari dai poverino Attorno a un estremista Di estrema destra La donna si sarebbe Dichiarata regina del Canada Avrebbe minacciato Di compiere Esecuzioni pubbliche Ai traditori Vabbè Altri Stavamo parlando Prima di un uomo Che non sta bene Qua c'è una donna Che non sta bene O sommo oracolo Devo armarmi di balestre E andare a prendere La testa di Re Carlo Alzati Open su Non lo fare Però l'oracolo ha parlato No si l'oracolo ha parlato Non ascoltate Non ascoltate Andiamo avanti Con la settima notizia Minneapolis USA Una scatola Contenente cacca di giraffa È stata sequestrata Nell'aeroporto di zona La donna voleva farci Una collanina No Signora Non Non faccia collanine di escrementi Di giraffa La prego Magari con la ceralacca Pure le rendeva Tutte bella lucida Che schifo Vabbè Le apro io Non lo faccio vedere in live E' proprio Rocce marroni Marroni scuri Ti dirò Vabbè Andiamo avanti Ottava notizia Contea di Lancaster Pennsylvania USA ovviamente Un uomo che guidava Intestato di ebrezza Vabbè Intestato Intestato Come intestato di ebrezza Chi è che gli ha intestato Dell'alcol Vasco Vabbè E' stato arrestato dalla polizia 17 minuti dopo E' stato rilasciato Per lo stesso crimine Vabbè ho capito Lo riprendi 17 minuti dopo Come vuoi che stia E' ancora ambriaco Anche la polizia però Scusami Io capisco lui Con testa di cacchio Ma se lo ripigli Dopo 17 minuti Sarà ancora ubriaco Dopo 17 minuti E' stato rilasciato Magari è stato in carcere Una notte Ah dici Beh può essere Cioè è uscito Sei rimbriacato di nuovo Vabbè si ci può stare 17 minuti Sarà già rimbriacato Completamente Non ha capito Un uomo Aiutatelo Per favore Ora lui è il proprietario Di una distilleria No Richie Non è così Spagna Un uomo è stato arrestato E processato Per aver fatto finta Di avere un infarto Mentre era ristorante Per non pagare Un grande Avrebbe fatto la stessa cosa Per circa altre 20 volte In giro per la nazione Il signore è stato condannato A 42 giorni di carcere Posso dire pure poco Forse per la truffa A 20 ristoranti Però vabbè Magari gli danno anche La multa Magari gli danno anche La multa Sì Però che non c'è Ci voglia pagare Allora Ah beh Può essere anche quello Sì C'è anche una foto Fammi vedere Questa è la foto Ecco qua il nostro genio Lui che si Si vede che non sta molto bene Eh poverino Chissà cosa ha passato Decima notizia Perù Un signore è stato arrestato In Perù Dopo che ha minacciato Di far esplodere Diverse scuole statunitensi Dopo non essere riuscito Nei suoi piani Di estorsione Che non specificherò qui Vabbè Un pazzo Un pazzo Poi abbiamo L'undicesima notizia UK Disponibile all'acquisto Un divano color crema Per 750 sterline È giusto coperto Con diversi scarabocchi Fatti con un pennarello Indelebile Dal figlio del venditore Trovate l'annuncio Su facebook Vabbè Dai Era una poltrona Comodissima Solo perché Un po' scarabocchiata Dal figlio del signore Io vi consiglio Di comprarlo Ragazzi Dai In privato Vi passiamo il link Dodicesima E ultima notizia Lo Zail Qatar Ieri si è svolto Il gran premio Del Qatar Di Formula 1 La gara verrà ricordata Per tante cose Lasciando perdere I problemi agli pneumatici E come sono arrivati I piloti Di cui voglio parlare Per via del carutordido Associato a un livello Di umidità Che ha superato il 70% Molti piloti Si sono sentiti male Scusate Non stavo capendo bene La sintassi Non l'ho letto bene C'è chi si è ritirato In anticipo Chi ha vomitato nel casco Chi voleva una secchiata D'acqua fredda Chi ha aperto la visiera Ma si è trovato Solo tanta sabbia negli occhi Chi non riusciva A uscire dal veicolo Senza assistenza Chi uscito dalla macchina Si è trascinato Vicino ad un'ambulanza E chi addirittura Ha svenuto post gara Al centro medico Una merda proprio Un disastro totale Ma quello che ha vomitato Nel casco Era proprio necessario Vabbè perché ha vomitato Mentre guidava Ha vomitato tra l'altro A neanche metà gara E poi ha continuato comunque Babbi Ha tutto sbarazzato Ha continuato Tutto sbarattato di merda E per forza Non è che devi fermi Da cambiare No qui sono Probabilmente avranno Tipo una specie di Aspiratori Che tirano via un po' Però probabilmente si Un po' la visiera Spork l'aveva Grazie mone Che dice hola Non si scrive così Tra l'altro Cervax Che dice Stroll e Cervia Sono andati in ospedale Cos'è quella torta? Poraci comunque Mamma mia che disastro Vabbè A questo punto Dobbiamo Facendo dei calcoli Hanno detto che l'abitacolo Forse la diocona Aveva raggiunto gli 80 gradi Quando è sceso dalla macchina Si stavano sciogliendo Letteralmente Era di notte Si era di notte Ah Luke Siccome non ho i suoni Per darti la linea Eh Ma c'era la parte Videoludica Ah è vero Eh Aspetta Spider-man song Eh Non esce quella giusta Eh Vi faccio Metto la sigla Del cartone animato Del 67 Andiamo Luke Per la segna videoludica Eh Luke Dai Farò io No Non la devi fare tu Non so perché te l'ho detto a te Allora Partiamo con le notizie Abbiamo uno speciale Sono stati iscritti Ma vabbè Lasciamo stare Abbiamo la recensione di Ion Fury Aftershock Che non mi ricordo cos'è Ragazzi Se laggo durante la rassegna Perché quando mi apre le notizie Nell'altra finestra Scatta Grazie Agos Grazie mille Agos Allora Non mi ricordo È un boomer shooter Ha preso Madonna è lunghissimo Cosa Pubblicato nel 2019 3D Reams Cioè sarà Oltremmeno la versione Lase Sarà un DLC Sì Tra l'altro non hanno messo il voto Ci sono i pro e i contro Ma non c'è il voto Perché sono DLC E non hanno il voto Ah beh Sì Effettivamente è un DLC Vabbè Poca roba Ci interessa poco ragazzi Di questo qui in realtà Hanno provato Talos Principle 2 Che quello può essere interessante Adesso Poi ve lo leggo Fatemi aprire un po' di notizie Cypher 007 Che è un gioco per Apple Ma c'è poca roba comunque Di recensioni C'è stata la recensione Dell'iPhone 15 Pro Questa la voglio leggere Magari a qualcuno può interessare Intanto Talos Principle Che magari interessa a qualcuno Non so se vi ricordate Quello Puzzle Game Insomma Con anche la narrazione Cioè un puzzle game Con una narrazione Abbastanza Importante Nelle certezze Hanno messo i puzzle Seguono lo stesso stile Ampliando le idee già note Miglior connessione Tra trama e gameplay Che può essere una cosa interessante Per chi Vuole giocarlo Nei dubbi C'è le aree aperte Sono un po' troppo aperte Che non capisco Visto che è un puzzle game Perché ci siano Delle aree aperte Tanto aperte Così tanto aperte E poi forse si è persa L'aura di misticismo E mistero Del primo capitolo Grazie Rem Male Direi male Grazie Rem Remanenta Sarebbe Non so Grazie mille Comunque Vabbè Se vi interessa Talos Principle Comunque Questo era il provato Per l'iPhone 15 Vediamo un po' Se anche qui hanno fatto I pro e i contro Mamma Una recensione Una recensione Non è Non Si può finire Questa recensione Talmente si scrolla Gli hanno dato nove Gli hanno dato Un solo contro E quattro pro Un po' di parte Magari Sbaglio Allora Nei pro gli hanno messo Più compatto e leggero Qualità costruttiva impeccabile Fotocamere ottime Video eccezionali Vabbè Questo lo fa anche il mio telefono USB-C Finalmente E prezzo più basso Dell'anno scorso Ah Eh a quanto pare Si Eh si Credo comunque Ti costi un patrimonio Sì vabbè Sei sempre mille Nei contro Velocità di ricarica Ancora piuttosto bassa Come Dicono nei commenti Che lo strato di vetro Regge poco Però Non so se vi può interessare Stavo pensando di prendere Pixel 8 Poi ho visto il prezzo È aumentato il prezzo Pizzel è diventato un iPhone Prendi il set Prendi il set Pizzel è veramente un iPhone Adesso Era quello che ha fatto vedere Che Siccome L'iPhone 15 Però Ha lo schermo Abbastanza grande Diventa più Su Più fragile Mi pare Non mi ricordo Ho visto da qualche parte Una roba del genere Ok Si sono anche i benchmark Vabbè Roba Roba poi nello specifico Veramente ragazzi L'articolo è immenso Fate voi Perché Veramente immenso Allora Aspettate che adesso La ghicchi un po' Ve lo leggo Il provato di Warcraft Rumble Ma Non so a quanti interessi È quel gioco Warcraft Tower Defense Per telefono Anche questo Abbastanza lunghetto Come articolo Abbiamo Tra i dubbi Il modello free to play Ancora un'incognita Supporto post lancio Tutto da verificare Al momento Tende un po' A scaldare il dispositivo Come penso ormai Tutti i giochi A parte Marvel Snap Certezze Promette davvero tanto Gameplay solido Stilisticamente piacevolissimo Sì esteticamente Non è malaccio Sembra un po' A me ha ricordato Un po' Le grafiche di Warcraft Perché poi in realtà No eh Però in alcuni momenti Che vedi tutti questi pupini Che attaccano Con i colori blu rossi Me l'ha un po' ricordato Però ovviamente Non c'entra niente con Warcraft Per quanto sia di Blizzard Boh Potrebbe essere divertente Non l'ho provato Quindi non Non so cosa dirvi Magari lo provo però dai Potrebbe essere uno di quei giochi Che provicchio Vediamo altre recensioni Non c'è niente di particolare Hanno recensito Loki Che vabbè Bene o male Hanno detto tutti Che è iniziata bene Ma tanto su serie Marvel Quindi purtroppo Il fatto che la prima puntata Sia interessante Me ne sbatto anche le palle Devo vederla comunque Anche perché settimana prossima Se poi vedo da Tiziano Devo farmi il recuperone Della prima E guardare la seconda Domani non ce la faccio Perché sono a matrimonio Ma è sul set Se hai 2000 euro A disposizione Pigliati l'iPhone Anche Ci sono gli sconti Su Amazon Quindi ovviamente Noi vi ricordiamo Per supportarci al massimo Fatelo sempre Non solo adesso Che ci sono gli sconti Se fate punto esclamativo Amazon Potete salvarvi il nostro Bravo Vector Sempre pronto Potete salvarvi Quel link di Amazon Che è il nostro link referral Voi cosa fate Ve lo salvate nei preferiti Tutte le volte Che volete aprire Amazon E comprare Aprite da quel link lì E voi fate i vostri acquisti Tranquillamente A noi ci arriva Una percentuale Semplicemente Quindi a voi non cambia Assolutamente nulla Ma a noi ci arrivano Dei soldini fondamentali Anche perché Adesso io e Eliezer Dobbiamo cambiare le schede video A volte compriamo cose Di cui poi vi parliamo in live Tra fumetti Ma ci sta qualcosa di buono a comprare Sarà in sconto Quasi tutte le robe di Prime Poi ovviamente Ci staremo attenti In caso vi consiglieremo Eventualmente Noi abbiamo comunque La nostra pagina di preferiti Probabilmente se riprendete Le vecchie offerte Saranno le stesse Perché A fine sono quelli Prodotti che ci sono Quindi Non credo Cambieranno molto Che schede prenderete Sicuramente Una 70 4.070 Sì 4.070 Adesso però dobbiamo vedere Quando e come Quindi stasera Moro farà live Non lo sappiamo Non credo Stasera non penso Però Anche perché Non abbiamo le offerte In anticipo A parte che non stava benissimo Ma poi comunque Non Per ora non abbiamo Niente di programmato Ovviamente In caso lo scriviamo Ma trovate Sponsor per le schede video No Metos non è così facile Non è così facile Non è per niente Con la mia scheda video attuale Sì c'è ancora il video sul canale Me l'avevano mandato in video Avevo fatto tutto il video Del Lo trovate ancora sul canale Il video del Del fake Airdrop Che mi era arrivato a casa Molto carino Andatevolo a guardare Pesavo la metà di adesso Vabbè Questo è un altro discorso Però questa volta Non l'abbiamo trovato Purtroppo Anche perché Noi siamo tre Tra l'altro Anche Il pc di Moro Quello prima Non ce l'avevano fatto Sì Ce l'avevano fatto tutto Comunque sia Uno Ce lo troviamo spesso Solo che Per tre persone È impossibile Comunque Questo per dirvi Che il link di Amazon Serve sia per noi Per comprare cose Di cui poi vi parliamo Sia proprio fisicamente Per lavorare Quindi Se potete supportarci Ragazzi Ci fate sempre un grande favore No ma in realtà C'erano Due anni fa Ci hanno fatto Un pc nuovo intero L'ho trovato In descrizione Quindi Non è che possiamo Avere una cosa ogni anno Anche perché Il pc di Moro L'intero sarà costato Almeno 2000 euro Cioè Non possiamo farlo Tutti gli anni Poi non siamo power Voglio dire Siamo grandicelli Rispetto alla media Però comunque Siamo ancora piccolini Rispetto ad altri Perché non abbiamo neanche Provato a chiedere Cosa? Che non abbiamo neanche Provato a chiedere No No forse qualcosina Sì qualcosina Anche per i portati L'avevamo chiesto Ma non c'è stato Mi pare che tutte le offerte Che facevano in quel periodo Infatti lo fece sia Kafkaia che Lino Gli davano i portati Gli facevano la live Ma poi solo riprendevano Sì la devi restituire E quindi non aveva senso Per me Quello è normale Soprattutto sui portatili Lo fanno Ecco Questo portatile qui Che mi è servito Per tutto il trasloco Per fare le live L'ho preso Con i soldini di Amazon E metà Con i soldini di Amazon E metà L'ho pagato io Perché comunque Costava tanto Quindi Metà soldi Ce l'ho messo io Ancora per lavorare Se mai andrò dai miei Mi servirà comunque Quindi averlo qui E tanta roba Mi sta servendo anche per Tipo adesso Devo passare le clip A Luke E ogni volta Devo fare un casino Perché purtroppo Non posso attaccare al pc fisso Scaricare le clip E dargliela Luke Sarebbe Avrei risparmiato Tre quarti del tempo Devo fare un trick Col telefono E l'app di GoPro Passarlo da portatile E poi caricarlo È un casino E mi è servito Il computer portatile Altrimenti Non so come avrei fatto Poi Andiamo avanti Con qualche notizietta Vediamo un po' Se la troviamo Qui che altro Perché oggi mi sa Che c'è un po' di magra A livello videoludico Cioè magra Che poi Magra a livello videoludico In realtà stanno uscendo Un sacco di giochi Solo che appunto Stanno uscendo Quindi non è che c'è Molto di cui parlare A quanto pare Su Starfield Qualcuno ha costruito Una gigantesca Star Destroyer Di Star Wars Va bene Meta starebbe realizzando Un quest 3 Poco costoso E forse senza controller Vedremo Insomma anche qui Vedremo Col passare del tempo Le notizie A me non frega niente Come sapete Deep Rock Galactic Rogue Core annunciato È un gioco Roguelike Cooperativo Standalone Eh Questo teniamolo d'occhio Che per noi potrebbe essere buono Insomma Non male E poi Non so Luke Se tu hai qualche notizietta Qui Vai vai Leggici pure Tutte le cose Ah ci sono gli sconti Sul Nintendo Switch E shop Tra cui anche Eidis Quindi mi raccomando Sì Deep Rock Galactic Rock Core È Deep Rock Galactic Con Le carte Casuali Che ti trovano Nei bonus Che può essere interessante Vedremo Allora Partiamo con Allora È uscito il remake Di Resident Evil 4 E Il DLC Di Resident Evil 4 E C'è stato da discutere Perché Poi vi leggo una notizia Il battito riguarda Il fatto che Ci sono alcuni Posti Alcune scale Colorate di giallo Così Non puoi neanche Non puoi sbagliarti Sai dove andare E Quindi questo Ha fatto dire Non è che forse Stiamo facendo giochi Troppo facili Oramai Perché proprio Sono C'era anche Su un altro gioco Forse Far Cry Non mi ricordo Sono quelle Sono scale Dalla vernice fluo Gialla E non puoi perderti Quindi Sai dove andare Esatto Non c'è nessun tipo di sfida Nessun tipo Sì Sai dove andare Sì sì Mauro Con la 4070 Spero che saremo a posto Per un bel po' Già tanti giochi Mi funzionano ancora Però tipo FIFA Sto facendo Ma non è problema Di quello Adesso basta vedere Quello che sta succedendo La moro con Forza Moto Purtroppo La 4000 O qualche l'è Sì sì no Delle volte ci puoi far poco Puoi prendere la scheda video Più bella del mondo Ma se non girano i giochi Perché non li so fare O ci sono casini vari Però sicuramente avere La 4070 Al posto della 1070 Sicuramente aiuta Sono più tranquillo Appunto FIFA Ma ti aiuta più che altro Per streamare Perché è così Ma per il resto Se non ottimizzano Non ottimizzano Comunque una piccola notizia Poi faccio continuare Luca A quanto pare Forse Gliazza lo sapevi Tra l'altro dopo faremo Fortnite Quindi è in tema La Shell ha promosso I suoi carburanti Nel gioco La Shell Non so Non ho visto Magari dopo ci facciamo caso No penso debba farlo Ah deve ancora farlo E no ma magari c'è già Il simbolino Shell Nelle pompe di benzina Cosa del genere Non ci ho fatto caso Ragazzi mi brontola la pancia Se sentite un brrr Sono io Non fatevi domande Sto mangiando poco Perché ho l'ansia di domani Del matrimonio Che poi il vestito Mi sta stretto Oppure Che sono scomodo E quindi sto mangiando poco Che non è il modo migliore Per Come si dice Affrontare questa cosa È un evento creato appositamente Quindi basta non farlo No vabbè È una cosa in più Una mappa in più No era più caldo Per non essere gonfio Ricky Non per altro Per mangiare gratis Cosa? Per mangiare gratis Beh gratis più o meno Comunque sì Beh mica paghi Vabbè la busta gliela dai La busta gliela dai Quindi alla fine paghi Gli dai due euro E via No no Davidone Scusa Mi sono il mio amico Devo dargli un pochino Cioè Ovviamente non sono Sono ricco Gli do quanto posso Però comunque Non è proprio gratis È cinque euro E la carta di Tra l'altro Un casino per capire Quanto mettere in busta Ragazzi Sono quelle cose Di vita sociale Che non è che ti dicono Quindi ho dovuto fare Dei magheggi Dei giri Dieci euro massimo No non è proprio così Allora È che è uscito Allora C'è stato Non so chi Ha fatto questo PC gaming Credo Ha fatto un articolo Su quanto hanno guadagnato I giochi di Steam No Metà dei giochi Di Steam Hanno guadagnato Meno di 500 dollari Più che altro Degli ultimi tre anni Il numero di giochi Hanno Sono stati pubblicati Nel ultimo tre anni 41.000 giochi Quindi dal 2020 A oggi Tanti E Quindi Che equivalgono A 38 videogiochi Al giorno E questi 41.000 giochi Hanno pubblicato Hanno generato Entrate lorde Pari o inferiore A 500 dollari Che però A cui bisogna togliere Il guadagno di Steam Dagli sviluppatori Che è il 30% Certo E L'unico Il 70% Dei giochi pubblicati Su Steam Sono progetti Autofinanziati Da sviluppatori singoli Che quindi Non lo fanno per soldi Quindi Gli frega molto Di quanto guadagnano E togliendo questi Quindi lasciando solo I giochi Veri e propri Diciamo La media Per ogni singolo Gioco di guadagno Sale a 700 dollari Ciascuno Che non è proprio il massimo Ok L'unica eccezione Di questi Che non hanno problemi Di soldi guadagnati Sono i cosiddetti titoli Not safe for work Perché A quanto pare Le visual novel Con contenuti maturi Guadagnano Tutte Dai 1000 Ai 2000 dollari Tutte A prescindere dal Dal Sì Di media Ok Tutti dai 2000 Ai 2000 dollari Perché appunto La gente piace fare Cose Ragazzi Per le buste Al matrimonio Ci sono tanti discorsi Da fare Una scritta Io do 50 Delle parti No Cioè nel senso Bisogna comunque Vedere il rapporto Che avete Con lo sposo E la sposa Se il rapporto È tanto vicino Non si dà Così Poco Tra virgolette Si dà Molto di più Io a Davide darò Molto di più Ma perché comunque Davide è mio fratello Praticamente Quindi Ovviamente Visto che è una cosa Che vi interessava Dipende dal rapporto E ovviamente Se ve lo potete permettere Ragazzi Se dovete farla fame Glielo dite Gli dite Ragazzi Non ce la faccio Sono in difficoltà Poi chiaramente Non è che è un bastardo È vostro amico O vostra amica Quindi Ci mancherebbe altro Però se non te lo puoi Permettere No ecco Non 800 euro Però Quello non è possibile Però Diciamo che Se sei una persona Vicina allo sposo E la sposa Si dà un po' di soldini Anche per aiutarli Tipo mia mamma Mi raccontava che Lei ha speso Una cifra Lei e mio papà Hanno speso una cifra Al loro matrimonio Ci sono rientrati Addirittura Gli ha avanzato qualcosina Perché poi c'erano Quelli che gli davano di più Addirittura ha detto che Al suo matrimonio Sono imbucati 40 persone E quelle 40 persone Lei non le aveva contate Però quelle 40 persone Hanno voluto comunque contribuire Quindi si è ritrovata Dei soldini in più Però ha detto Non è sempre così Chiaramente Ragazzi Io mi sono spostato Il mese scorso A meno che gli sposi Non siano dei bastardi Non guadagnano Quanto mettete in busta Non guardano Quanto mettete in busta Che siano 5 O che siano 1000 Però se vi interessa Gli sposi A una persona Spendono circa 120 euro A persona Sì Diciamo poi Dipende chiaramente Se sono delle persone Benestanti Vanno in un posto Lussuosissimo Cioè Effettivamente È un argomento Di cui non parla Nessuno Perché a volte È brutto parlare di soldi Però effettivamente Uno non sa come comportarsi Io ho dovuto chiedere Un po' di persone Perché poi Non è una cosa Che ti insegnano Ti spiega qualcuno Quindi ho detto Boh Chiedo un po' in giro E vedo Chiaramente ragazzi Se siete in difficoltà economica E gli mettete 40-50 euro Non è che vi sputano in testa Lo sapranno Insomma Sono vostri amici Quindi Quindi metterci il nome sulla busta Poi lasciargli la busta in bianco Anche lì Dici Ma chissà chi sarà E quindi Non 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 è un problema Voglio dire Sono vostri amici Se poi questo qui Neanche lo conoscete Lo conoscete al pelo Vi invita al matrimonio Lì già non so come comportarvi Io Davide Ripeto Davide per me È mio fratello Praticamente Quindi non È diverso Poi Elon Musk ha detto Che su Twitter X Si potranno streamare I giochi da PS5 Xbox Series X Anche se Da quanto ho capito Al momento Questa funzione è molto Arretrata C'è molto poco da fare Poi Non so chi Comunque La futura notizia è che Nel 1997 Lo studio sviluppo Che stava lavorando A FIFA Si è presentato da Sony Per cercare di vendergli Il DP E Sony si è rifiutata Ma prima che nascesse Sì Ok Non era EA No era già di EA Infatti per quello Che l'ha rifiutata Perché Non voleva inimicarsi No Forse Luke intendeva Che non si chiama EA Ah no Sì no Questa cosa era nel 97 Da quello che ho detto Ah Ah beh allora Era già di EA Games E non voleva semplicemente Inimicarsi Le uscite Di altri giochi Ma tra l'altro Adesso Perché da quello che ho capito Sono proprio gli stessi di FIFA Che hanno detto Se volevano fare l'esclusiva Senza passare da EA Games Che era il proprietario Era il proprietario Sì sì No ma che poi tra l'altro Adesso non è questo il caso Ma c'è stato il periodo In cui FIFA Stava andando giù tantissimo Perché PES Aveva effettivamente Introdotto cose fighe C'è stato un periodo In cui la gente giocava solo a PES Perché proprio il gameplay Era molto più figo Molto più innovativo Poi FIFA si è ripresa totalmente Anche per Ultimate Team Ed è tornato Il dominio su FIFA E PES Adesso fa sempre peggio Tra l'altro Quest'anno ha recensioni In più negativa Ancora dall'anno scorso Probabilmente Già l'anno scorso Era tutto rosso Di recensioni Non so come stiamo campando Quelli di Di PES Che non è più PES Come si chiama E football Grazie Tom Comunque ragazzi Sì Ovviamente Non vi fate problemi Per i matrimi Cioè nel senso Adesso non so Se anche voi Vedo che vi siete presi bene Col discorso Vabbè Non pensavo Però comunque sì Chiaramente una persona Che vi invita al suo matrimonio Lo fa innanzitutto Perché ci tiene E vi vuole bene Se avete Se avete gravi problemi economici Che non riuscite neanche a dargli 50-100 euro E magari glielo fate anche notare Non penso che vi sputino in testa Ragazzi Cioè Penso che abbia il piacere Di avervi a cena O comunque in quel giorno Perché ormai non la fa Da quello che capivo Da quello che capivo La fanno sempre meno persone In caso fai la lista nozze Gli compri il regalo Però Sì Diciamo che Poi non è neanche giusto Che un invitato Ti chieda Quanto hai speso per il matrimonio Ma questo quanto Se hai speso questo Così faccio un rapido calcolo No Fatevi i fatti vostri Non chiedete allo sposo Quanto ha speso per il matrimonio O alla sposa Quanto ha speso per il matrimonio Cioè Non è carino Grazie il mio Berto Poi chiaramente Posso capire anche Che uno sente in imbarazzo Però La stai tendendo è un discorso a parte Noi ci offendiamo Anche se mi dici di no Quando ti offro una birra Vabbè Adesso stai tranquillo Alcuni si fanno mettere Alla porta Di viaggio di nozze Ma non so come funziona Ecco Più che altro Per il tuo matrimonio Potrebbe esserci più un problema Non vengo Perché non so come venirci Perché lì è già più complicate Siamo in Sardegna Già lì potrebbe No esatto Io il discorso lì sarebbe Proprio diverso 67 come il numero Dopo il 66 Prima del Vabbè Lasciamo stare Vengo Berto Alletto adesso Ma basta dirlo Anche a me è successo di invitare Scusa Scusami Non so più leggere Anche a me è successo di un invitato Che non voleva venire Perché non aveva soldi Gli ho detto di non preoccuparsi Di venire comunque Ed è venuto Poi che aveva sorelle Che sono venute Senza avere il minimo problema Non gli hanno voluto prestare Nemmeno 20 euro Un'altra faccenda Quello sono fatti loro Eh vabbè Capire i fatti familiari Adesso cinico Non saprei Però Chiaro che A parte il fatto che io Quando mi Non penso Mi sposerò Ma perché Per adesso Non ne sentiamo la necessità A livello di Perché tanto il matrimonio Sarebbe solo Cioè io so che voglio Francia E Francia sa che vuole me Semplicemente Il matrimonio sarebbe una cosa Per farlo a livello legale Solo che partono Un sacco di soldi Adesso abbiamo altre spese Se mai mi dovessi sposare Io vorrei pochissime persone Devi avere almeno Meno almeno 10.000 euro Sì poi dipende Come lo fai Poi come lo fai Poi c'è il viaggio di nozze Però si Il viaggio di nozze Si può anche non fare Però Cioè non è obbligatorio Però Sì però Diciamo che di solito si fa Considera che Tra uno e l'altro Almeno 100 persone le inviti Fai anche 100 euro a testa E arrivi 10.000 Subito Arrivati così No beh chiaro Però io per esempio Non vorrei tante persone Nel mio matrimonio Ma più che altro Per non avere casini Eventuali casini Problemi Appunto 100 persone Sono tante Però con la tua famiglia Che è abbastanza bella Allarcata 100 sono solo i miei parenti Non li inviterò Cioè io non riuscirei a invitarli Tu Se lo facessi io Io fortunatamente Ho solo i miei zii No beh oddio Tra cugini e tutti Comunque 20-30 parenti Scegli ho Io penso 20-30 Sono solo con 2-3 zii Però sì Una ventina di parenti Totale Una ventina di parenti Mi sa che sono pochi 10k Ma dipende dal matrimonio Ragazzi Dipende dal matrimonio Dipende da che ristorante Poi Uno può fare anche un matrimonio Piccolino Prende un ristorante Magari semplicemente Ci ha affezionato al proprietario E prende una sala piccolina E state tutti lì Cioè non è che devi andare A un ristorante incredibile Non sempre D'azio Cioè dipende un po' Ma anche perché è brutto Andare a sindacare Su quello che fanno Lo sposo Io vado perché sono contento per te Perché voglio festeggiare Il vostro giorno Non me ne frega niente Se andiamo Nella villa di Berlusconi O in un scantinato Per una Come si chiama In una trattoria Non me ne frega nulla Anzi Si mangia pure bene Eh lo so Ma in realtà Più o meno Perché appunto Per la burocrazia Molti non si sposano Perché sarebbe molto più Un problema Metti in un futuro Sì Metti si devono lasciare Se non sono sposato Adesso ti faccio continuare Lì scusami Che li vedevo presi bene in chat Mi sembrava un bel argomento Il più economico Finora 80 euro a testa Sì Ah Quelli che stai cercando tu Sì ok Beh considera Immagino tu farai il menù Quindi comunque Non è che è una susciata Devi comunque No Fare primo Secondo Eccetera eccetera Tra l'altro io Se conosco Davide Fa un sacco di roba Col pesce cotto Quindi probabilmente Neanche mangio Neanche mangio Alla fine Però Lui mi ha detto Che c'è un sacco da mangiare Eccetera Solo che sicuramente C'è anche roba col pesce Giustamente Io sicuramente Non Mangio una sega Alla fine Finchia 30.000 euro Per un matrimonio Sono tanti però Eh ragazzi Ma perché tu ho detto Dipende da che posto prendi Dall'abito Quanto spendi per l'abito Quanto spendi per quello Quell'altro E magari le cosine Che fai in più Tipo sono quelli che fanno Gli appetizer Con solo sushi E spendi un casino Quegli altri che preferiscono Le pizzette Altri ancora che preferiscono I Come si chiamano I Come si chiamano Quelli con la pasta sfoglia Aiutatemi I Hanno un nome Che a me piacciono Tantissimo Tra l'altro I rustici Mi è venuto in mente Nello stesso tempo Quella scritto cinico Che mi piacciono Da morire a me Però sì Dipende cosa fate Chiaramente se fai Una portata Cioè prima di mangiare Di solito c'è il buffet Se fai solo sushi Spendi molto di più Che fare le pizzettine Che poi tra l'altro Sapete cos'è successo L'ultimo matrimonio In cui sono stato Per le leggi Del covid Del luogo Gli avanzi Li hanno buttati Tutti Tutti Cioè ho visto proprio Il cameriere che faceva Il saccottone Buttava Quelli rimasti E io ho detto Ci ho rimasto anche male Perché purtroppo Non possiamo farci niente Perché abbiamo provato Anche a dirgli Dacci qualche pezzettino Ce lo conserviamo noi Ha detto No no purtroppo Per le leggi Che mi hanno dato qua Del ristorante Devo buttare tutto Non posso darvi niente Non ci posso fare nulla Boh Vabbè Era comunque 2021 Cos'era Quindi sì Stavamo uscendo Ma la mascherina Non lo posso capire La mascherina Si doveva ancora mettere Dovevamo stare attenti Eccetera eccetera Che tra l'altro Non sto andando Cioè negli ultimi matrimoni Non sto andando in chiesa Non so se è obbligatorio Ma di solito Se la ha sempre L'offerta al prete Di solito se la ha sempre Non so se è obbligatorio Ok Ma di solito si fa La roba è pagata E in più ce lo spreco Certo Rickiet Entrambi sono Io all'unico matrimonio Che sono andato Ho detto più volte Non taggatemi Non ho Instagram Rispetto Avviva gli sposi Può essere Può essere Non penso sarà questo Il mio caso Si paga proprio Obbligatorio Ma Tipo un'offerta Che diciamo È poco come La mancia in America Che la taglio Quasi obbligatoriamente Io vi giuro Gli ultimi 3-4 matrimoni E non ne ho fatti tanti Negli ultimi anni Tutti Non in chiesa Le ho fatti Tutti non in chiesa Neanche questo Cioè Non so Quindi dipende Da riprendere gli sposi Assolutamente Ma perché poi magari C'è anche gente Che vuole la chiesa Anche per avere Il posto figo Eccetera Solo che Tipo io all'ultimo Eravamo in una villa Nella parte dietro Col giardino In mezzo alla natura I fiori Gli alberi Era fighissimo Molto meglio Che stare in chiesa Per me Bene lo dispogli Una chiesa Magari di un paesino Magari in montagna Così è anche figo Perché comunque Sono molto bello Mio papà e mia mamma C'hanno il video Del loro matrimonio La chiesa era bellissima Ma sì Sembrava un matrimonio royale Quello dei miei genitori Solo che Non andare in chiese Tipo moderne Ma Quelle un po' più vecchie Ci sta Sì sì Era veramente grande Infatti ogni volta Dico ma quanto avete speso E ho detto eh C'è mio papà Intanto dice Eh è tutta così Eh matrimonio royale Sì Si dice Reale Royale E in inglese È vero L'ho italianizzato È vero Io ho fatto il matrimonio Al comune E poi la finta cerimonia In villa Tanti fanno così Cosa vuol dire la fitta È che tu fai Non so come si chiama Il ministro Non è ufficiale Ah ok Perché tu sei scusato Prima poi la rete Esatto Davanti a tutti Ok O chi lo fa in spiaggia Sì perché in comune Non puoi invitare tanta gente Con mio zio in comune Eravamo noi parenti Ed eravamo una cinquantina e basta Beh sono già soltanto Però c'era una sala Con cinquanta sedi almeno Sì perché dipende Dai posti della sala Perché la chiesa Ci stanno di solito Mille persone almeno Il comune di Monza Non è proprio piccolo 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 ci stavamo Quindi Ah lì a Monza Beh sì giusto Sì con mio zio sì No ma Davide dove fa Adesso non mi ricordo Penso che ti puoi sposare Cioè non è che Sposarti Per forza in comune Puoi sposarti dove vuoi Basta che ci sia Una persona Ma infatti mi sa che non siamo Nel comune Adesso non mi ricordo Non mi fate domande specifiche Che sto guardando Meno possibile Che mi viene l'ans Per lui Ti sposi in comune Poi puoi fare la stessa Cerimonia con qualcuno Che la celebra in villa Sì Com'è che si chiama Il ministero della santità Lì come si chiama Che ti fa Il notaio Come si dice Quello che Il messo comune No lo dicevano anche in Arrow Cioè ti serve qualcuno Mi viene ministro O ministero di qualcosa Ma non è E' più probabile che sia ministro Eh ministro di qualcosa Ma non l'assessore In Arrow c'era Vabbè è un po' spoiler Vabbè c'è Stephen Amell che lo chiede A il suo amico Perché lui è un qualcosa E non mi ricordo come si chiama Un ufficiale dello Stato civile Può darsi Sindaco, vicesindaco, assessore, consigliere comunale A un cittadino italiano Che abbia requisiti per l'elezione consigliere E basta? Solo questi? Questi in Italia Sì L'officiante Sì vabbè L'officiante Sì vabbè Iron Tanti auguri No Può essere anche un tuo amico In America fanno Ma in America è diverso Quello che abbiamo fatto noi Non serviva Ma sai che mi sa che ha ragione Shira? Io mi ricordo di essere stato Un matrimonio Che l'ha celebrato un nostro amico E lui non è niente Sì Sì Può essere anche Un cittadino italiano Basta che abbia requisiti Hai requisiti Esatto Che sarà tipo Aveva la penale pulita Vabbè certo Devi avere Chiaro Sei un ex latitante Ricorso Beh sì Tanto l'importante Che si firmino i documenti Davanti ai testimoni Certo Certo Quella è la parte proprio burocratica Sì 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 Va bene Che ansia che ho ragazzi Mi viene mal di pancina Perché ho ansia per Davide? Dai adesso come facciamo? Perché non mangi Sì è vero Continua pure Luke Scusami Allora Il regista di Fantastic Four Ha confermato che In primavera Inizieranno le riprese Quindi Prima o poi Annunceranno anche Chi sono gli attori Ha detto che Dovrebbero andare di pari passo Le cose Appena hanno la possibilità Di ricominciare a gestirsi Con le ripese eccetera Diranno il cast E tanto Pansqui Ha sbloccato un termoracolo Immaginate un matrimonio Non ufficiale Celebrato con le frasi Del termoracolo Ad esempio Qui ti puntano La bigliottina in faccia Sì Non lo so Se sei sposato Con qualcuno Che non è particolarmente Non avrà Certo Comunque Lolla Sì sì Anche un tuo amico Lo può fare Come dicevamo poco fa Poi Neowiz Lavorerai a un DLC Di Lice of P O più DLC Non so Ok Poi C'è un video di sette ore Per di Dalla sessione di make up A cui si sottopone Melina Jorgensen Per El Blade 2 Quindi Ogni volta che Sette ore Sette ore Sette ore al make up Sì E quanto registro Non ho due minuti Perché è finita la giornata Beh no C'erano Tipo Dieci ore al giorno E basta Sette ore al make up Che palle Tutti i giorni Anche quando facevano vedere Karen Gillian Che doveva farsi tutta blu Doveva non nascondere gli capelli E poi doveva aspettare Cioè Si vedono loro che stanno al telefono Ore e ore Perché non sanno che fare Sono lì fermi Non possono fare Anche Buggy Nell'live action di One Piece Era lì Si doveva far mettere tutta la cosa A truccare Anzi Buggy aveva anche un trucco Delle palle In confronto a quello di Karen Gillian Poi Uscirà Un Fan Fan film Live action Di Nausicaa Nella Valle del Vento Oddio Ok Con il titolo Wind Princess È un progetto indipendente Dal regista brasiliano Chris Tex Ed è un'opera A cui hanno Lavorato per otto anni Ok Io ormai odio tutti i live action Quindi non ce la faccio No è un film È un fan film Quindi non ha Non c'ha Fan film Il motivo di lucro Grattiva Un tributo a Miyazaki E uscirà su Youtube Il 20 ottobre Durava 16 minuti Ci sta dai Vabbè ma finché sono cose fan Puoi fare quello che ti pare A sorpresa Uscita La Persona Collection Con tutti i persone Si lo viste Persona 3 Portable Persona 4 Golden Nella Persona 5 Royale Al costo di 89,99 Su Appunto Microsoft Store PlayStation Store E i shop di Nintendo Si Poi un dirigente Intel Ha detto che Dovrebbe Dovrebbe uscire nel 2024 Windows 12 Che Non sarà nient'altro Che un altro aggiornamento Per l'11 Probabilmente Non ho ancora messo l'11 Già l'12 Va bene E l'ultimo Parla ancora di One Piece Perché dopo 5 settimane Si Si trova ancora In classifica Top 10 Dei prodotti Visti da Su Netflix Con 28.400 milioni Di ore visualizzate E 4 milioni Di utenti Che l'hanno visto E' andato E' andato da Dio C'è poco da Da fare Il motivo Che hanno fatto La stagione 2 Esatto E hanno anche aumentato Il budget Basta Va bene Allora Ti do Aspetta Che devo cercare Assolutamente Un Fart sound Fart sound Colleco Colleco Ecco fart sound Vediamo Questo è il treno Non c'entra niente Vediamo se questo può andare È troppo lungo Ho paura Di cosa potrebbe venire fuori Vediamo È uno di 5 secondi È la prima cosa che trovi Vi piace questo? Escrivi Ecco fart sound Ecco con l'h È il primo Eccolo qua Anche peruzzato un po' Vai Allora 7 ottobre L'inglese Ralph Wedgwood Brevetta la carta carbone La quale dà il nome Di scrittore stilografico O noctograph Questo Da 1806 Nel 1933 Viene fondata La compagnia aerea Air France Che dispone Di una flotta Di 259 Veivoli Nel 1949 Nasce la Repubblica Democratica Tedesca In Germania dell'Est Certo Nel 1952 Gli studenti statunitesi Norman Joseph Woodland E Bernard Silver Ottengono il brevetto Per l'invenzione Del codice a barre Che hanno inventato Nel 1948 E hanno fatto domanda Nel 49 Che ci ha messo Tre anni Per la bruce taglia Ma no Per la precisione Il brevetto È il numero 2.612.994 Nel 1979 1978 In Spagna Viene realizzata La vendita Delle pillole anticoncezionali Nel 1982 Debutta Broadway Il musical Cats Nel 2005 Boy George Chiama la polizia Perché qualcuno Sta cercando Introdotti in casa sua Una volta Arrivati Gli agenti Arrestano Boy George Perché trovano Tracce di cocaina Sul tavolo Accanto al pc Ah si Era solo Fuori di melone Ok No Magari c'era E' andato via Però ancora L'ho trovato Nel 2008 Daniel Eck E Martin Lorenzon Però con la TZ Pubblicano la prima versione Allora l'applicazione Per la diffusione Di flussi musicali Che è Spotify Oh Anche perché Lorenzones va a Veneto Eh si Perché l'ho detto che Forse Martin Più che Martin Martin Io ho caldo ragazzi Fatemi mettere la Schisetta Per l'aria Che come si chiama Poi sono noti oggi Nel 1925 Bernardo Caprotti L'imprenditore E ideatore Prego prego Caprotti Sì 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 Ideatore del primo Supermercato italiano Infatti nel 1957 Quando opera la prima S lunga Ed è sua E lo so Non vi dico perché Lo so benissimo Chi è Caprotti Andiamo avanti Vabbè E' molto anche Recentemente Non è per quello Non è per quello Andiamo avanti Andiamo avanti Abbastanza velti anche Sei anni fa Sì Nel 1949 Nel 1949 E' nato Piero Fossino Ok Politico e sindaco Di Torino Nel 1952 Vladimir Putin Nel 1963 Roberto Cenci Regista e autore tv Sì Nel 1967 Neffa Cantante E nel 1977 Lapo Elkan Manager e imprenditore Vabbè Ricollegato anche a voi Giorgio ci sta Sì Ottore Sì Buon tempo e mal tempo Non dura tutto il tempo Bello Non può piovere per sempre Esatto Era la giornata Del divertimento Parsimonioso Cioè Del divertirsi senza Spendere soldi Giornata internazionale La comunicazione pacifica La giornata nazionale Del frappè La giornata nazionale Della bellezza interiore La giornata nazionale Della luce led E la giornata mondiale Del cotone Siamo all'8 ottobre Nel 1600 La Repubblica di San Marino Adotta la nuova costituzione Che va a sostituire Lo statuti comunali In vigore Circa al 1300 Questa era la curiosità No La curiosità La faccio alla fine Alla fine Scusami Perché sono 300 E non 360 Va bene Va bene Ne li serve qualcuno Nel 1927 Viene distribuito Negli Stati Uniti Il film I due galeotti Si tratta del primo film Che vede insieme Stan Laurel Scusami Questo non doveva succedere Prego Stan Laurel E Oliver Hardy Anche se avevano Già lavorato insieme D'altri due figli Sì Nel 1930 Il volo spiglientale Del primo elicottero Moderno Ha successo Perché L'elicottero moderno Progettato da Corradino Da Scanio Con un motore Fiat Con un motore Fiat Certo L'elicottero Da D apostrofo A T3 Fissa il record mondiale Di durata di volo Senza scalo Per 8 ore E 45 minuti Ma lo supererà Nei giorni successivi Nel 1934 Viene effettuato Il primo volo di prova Del Savoia Marchetti SM 79 Sparviero Progettato per l'uso civile Per l'uso civile L'aereo italiano Diventerà uno dei principali bombardieri Al mondo dell'epoca Nel 1958 A Stoccoma Viene impiantato Il primo Viene impiantato Il primo Peacecake Non so perché ho scritto Impanato Ma va bene Impantato Scritto L'ho messo un attimo Nell'uovo Sì Nella farina Nell'uovo Poi l'hanno Taccato Altra persona Nel 1990 Shenzhen Viene apprendato Il primo McDonald's Sul territorio cinese Scrutendo quello Di Hong Kong Nel 75 Perché all'epoca Era territorio britannico E non cinese Sono nati oggi Nell'8 ottobre Nel 1939 Paul Hogan Attore di Mr. Crocodile Dundee E di Flipper Nel 1949 Sigourney Weaver Attrice di Alien Sigourney William Sigourney Weaver Ah ok Scusami Nel 1957 Antonio Cabrini Campione mondiale Di Spagna 82 Nel 1960 Reed Hastings Imprenditore Fondatore E presidente Di Netflix Nel 1965 Carlo Cracco Cuoco E conduttore tv Nel 1970 Matt Damon Attore Oscar Per Alla sceneggio Tura Per Wee Hunting E nel 1985 Bruno Mars Cantante Il proverbio Dell'8 ottobre E chi non dorme Chi dorme Non piglia pesci Classico Questo ci sta Abbiamo la giornata nazionale Dei Pieroghi La giornata nazionale Del Cedai I Pieroghi I ravioli Non so se sono polacchi Oddio Non è Carlo Clarkson Non è il tuo figlio Del Terring Pieroghi Pieroghi Non lo sai che non so Cos'è Tipologia di pasta Ripina Tipica della cucina polacca Somigliante ai ravioli Bene Sono ravioli Sono ravioli Sì Ce ne sono di tantissimi tipi Di tantissime regioni Del mondo Quindi La giornata americana La benedizione delle barche Prima dell'inizio Della stagione di pesca Giornata internazionale Di chi consegna i giornali La giornata nazionale Del sandwich Con marshmallow E burro d'arachidi Con marshmallow E burro d'arachidi Strano E in America Lo fa Corre infatti Veramente a 20 anni Beh Se a lui C'è questo tramezzino Di quelle robe lì Beh però Cavolo Un burro d'arachidi E marshmallow Veramente è una botta Sì Differente di qualsiasi cosa Però Molto dolce La giornata nazionale Del salmone La giornata mondiale Della disetlessia E la giornata mondiale Delle piovere Arriviamo al 9 ottobre Che oggi Allora Nel 1446 Per volontà del re Sejong il Grande Viene promulgato L'alfabeto coreano Hangul Con lo scopo di Allontanare i coreani Dalla cultura cinese E anche nella lingua L'alfabeto coreano È composto Da 19 consonanti 14 semplici 5 doppie E 21 vocali 6 semplici 4 iotizzate E 11 dittonghi Madonna mia Tra l'altro Non c'entra niente Ma è venuto in mente Questo vato qua Perché No Di Cina Ne ho ascoltato parecchio Ieri sera Perché Mi sono iniziato E ho quasi finito Per prendere sonno Lo speciale Di Barbero Sul Giappone Che analizza Tutte le vecchie Epoche del Giappone Quindi la Meiji Eccetera eccetera Non solo Ed è veramente interessante Lo trovate su Youtube Ragazzi in due o tre parti Non mi ricordo Io dovrei essere arrivato All'inizio Un po' più Dell'inizio Della seconda Molto interessante Ve lo consiglio Poi c'è l'intro di Barbero Che fa il Pirla Che fa finta di Fare Sumimasen Molto interessante Per il Tokugawa Mi pare Sì sì Pure il Tokugawa Poi parla comunque Dei vari Shogun Citandoli proprio A livello storico Uno per uno Interessantissimo Poi non è solo Barbero Che parla Ci sono anche filmati In cui si vedono Parti Ovviamente Di recitazione Di degli attori Con i vestiti tradizionali E un altro narratore Però è veramente interessante Se vi piace sentire Barbero Ascoltarlo E non solo Anche quel periodo storico Lì ve lo consiglio Molto interessante Noi siamo stati Anche al museo Noi E dopo che sei stato lì Vedere anche che ne parlano È sempre figo Comunque sì Poi nel 1855 Isaac Meritzinger Ottiene il brevetto Per la macchina da cucire Ad aghi multipli Permette di lavorare Con precisione Tessuti sottili E fare cuciture ornamentali E anche risparmiare Un voto di tempo Immagino Non so come funzioni Eh credo sia Quella a due Che fa Tattattattattattattatt Ti fa tutta la Credo eh Poi non so Mi ricordo da mia nonna Però Boh Si può essere Nel 1855 Nel 1874 Nella città di Berna I rappresentanti di 22 nazioni Sottoscrivono Il trattato di costituzione Dall'Unione Postale Universale Unione Postale Universale Comunque sì C'è anche Nombunaga Vector Nel racconto Che è Un'agenzia specializzata Dall'organizzazione Dalle Nazioni Unite Con sede a Berna Che coordina Le politiche postali Dei paesi membri E di conseguenza L'intero sistema postale mondiale E questa roba Perché non sapevo Esistesse un'unione postale Eh no Infatti Particolare Nel 1947 Per la prima volta Viene effettuata una telefonata Fra un'automobile in movimento E un autoteloplano in volo Il servizio Costa 4 dollari a chiamata E un abbonamento mensile Di 170 dollari Nel 1947 Non sono pochi soldi No Nel 1963 Una farana Percipita nel bacino idrolettico Del Vaillant Provocando l'uscita Di 50 milioni di metri cubi d'acqua Bestia Per paragone Ho fatto Ho fatto due conti E mi risulta Che lo stadio di San Siro Dalla Base Alla cima Della struttura Rossa Ha un volume Di poco meno Di 28 milioni E mezzo di metri cubi Quindi due stadio di San Siro Cioè praticamente Sì è come se I due stadio di San Siro Pieni d'acqua Si fossero spaccati Avesse rinondato Milano Praticamente Ma buono E non Milano Sì beh Chiaro Una città X Nel 1980 La United American Bank Di Knoxville Annuncia che offrirà A 350 clienti La possibilità di effettuare Operazioni bancarie Da casa Tramite un computer Tandy Collegato alla tv E alla linea telefonica Che nasce così Il loan banking Madonna Nel 1986 Debutta al Her Majesty Theater Di Londra Il musical Il fantasma dell'opera E nel 1997 Dario Fo Vince il Nobel Per la letteratura La notizia Gli viene comunicata Mentre in auto Sta registrando una puntata Della trasmissione Milano-Roma Con Ambrangiolini Vede il fatto Da una macchina Che gli si affianca E dal finestrino Si pone un foglio Che è scritto Hai vinto l'Oscar Hai vinto il Nobel Non l'Oscar Un attimino Voglio vedere se la trovo No vai La scena Di Aldo Giovanni e Giacomo Solo che al posto delle mani C'hanno il foglio Che è scritto Hai vinto l'Oscar Sono andati oggi Nel 1860 Carl Helsener Imprenditore Inventore Del coltellino svizzero Nel 1940 John Lennon Cantante Autore di canzoni Nel 1958 Federica Sciarelli Giornalista e conduttrice Di Chi l'ha visto Nel 1967 Eddie Guerrero Vrest Edie Guerrero E nel 1973 Caparezza Cantante Intanto ho fatto vedere brevemente Lo spezzone Di quando lo vede Il proverbio del 9 ottobre Portissimo Caparezza Ho messo anche nel pre-live Le sue canzoni apposta Il proverbio del 9 ottobre Il proverbio del 9 ottobre Chita ci acconsente E abbiamo la giornata mondiale Delle poste La giornata degli eventi curiosi La giornata internazionale Di pizza e birra La giornata internazionale Per il rispetto Della diversità culturale La giornata nazionale Di nativi americani E la giornata del formaggio Con la muffa Che schifo Però si mangia È buono il gorgonzola Basta allora Ok Manca la curiosità del giorno Ah giusto Prego Che dice che in media Una segretaria Un segretario Usano per il 56% La mancina Quando scrivono Su una tastiera Questo è perché Le lettere più comuni Del linguaggio inglese Sono sulla parte sinistra Della tastiera Sì Le lettere più comuni Della tastiera Sulla parte destra In realtà sono solo La I e la N Ok Ok Va bene Interessante Diamo la linea A Marco Capo 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 Allora abbiamo Francesco Totti E Ilari Blasi Dopo l'incontro Il caso dei Rolex È ancora aperto Che l'avevano già detto L'altra volta Ma ce lo vogliono ridire Ma inderli fare metà per uno Ma che ne so Ma che ne so Senti Deve fare qualcosa Tipo Deve fare una cassetta comune Dove metterli E poi non so Vanno a Muzzo Fanno una sfida Tipo l'isola dei famosi E poi li lasciano lì Diletta Leotta Mamma sexy Con Elodie E le amiche Sul lago di Com Sì perché Elodie è molto Sua amica Andiamo avanti Con Mare d'autunno Ecco l'ultimo bagno Delle VIP Dalla Balivo Alla De Grenet E ovviamente Sono tutte In bikini Poi abbiamo Una piccola intervista Di Arnold Schwarzenegger Che ci dice Che sarebbe Un grandissimo presidente Non lo so Arnold Io Può essere Non lo so Vabbè C'è anche la sua età Ormai Ma sì ma poi C'è anche cosa un po' strana C'è Joe Biden Per il presidente Deve avere una certa Un minimo di età Sì lui è nato lì Comunque Vabbè comunque Non importa Abbiamo No forse non è nato lì Mi ricordo No è naturalizzato Ma non è nato lì Allora Quindi non può farlo È un po' come Obama 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 era Hawaii Sì no era come Elon Musk Non può farlo Poi abbiamo Fedez Che torna a casa Ovviamente si vedono i bambini Che la colgono Con un forte abbraccio E dei disegnini E poi c'è la Ferragni Che gli canta per te Di giovanotti Ragazzi E Penso sia una delle performance Più brutte Che io abbia mai visto In vita mia Con tutto l'affetto E un abbraccio forte Che mando alla Ferragni Che è nostra mamma Andiamo avanti Poi con Albano Che difende Loredana Lecciso E dice che Quando è arrivata nel 2000 Non ha rovinato Nessun matrimonio Perché probabilmente Erano già in rovina Con rovina power Non so perché Ho una notizia Il grande fratello Chiuderò velocemente Questa cata E andiamo con I due momenti a marcordi Il primo è l'esibizione Di Village People A super classifica show Del 1982 L'icona gay Degli anni 80 E Village People Si esibisce con Il primo singolo Dell'album Renaissance Smettila 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 Moro E poi abbiamo Giorgio Faletti Nei panni di Vito Catozzo A Zelig Facciamo cabaret del 98 Il personaggio caldo del comico Fa il suo esordio Sul palco Di Zelig E ora ragazzi Il momento preferito Da grandi Medi E piccini Il guest De Homosexual Era anche il compleanno Di un comico Di Diego Non mi è scusato il nome Perché non Non ti interessava Per davvero Di la verità Eccoci qui Con Un altro Open world Dalla The Witcher Qualcosa in genere Mi sembrava Mi sembra un Assassin's Creed Così la butto Io dico Assassin's Creed 3 Nooo Più recente Allora Odissi Così dirà che questo è zoomato Odissi Odissi Dei colori Lo trovo? No Non ce l'ho di tanto recente A me sembrano robe nordiche Quindi va l'alla Qua forse sì Sì va l'alla Guarda qui dico tanto Sì Ma non è andato bene Cioè Assassin's Creed Pinesis Era giusto Andiamo a riprendere Oddio come si faceva A guardare Il 512 Il 512 Eccoci qui Con Non lo so Un party game Potrebbe essere Mi ricorda Tipo uno di quei livelli Di qualche part I am bread Cavolo Eh potrebbe Potrebbe essere Anche Rock of Ages Potrebbe essere Tutti e due Proviamo a mettere Rock of Ages Giusto perché In tema nostro Che l'abbiamo fatto Per un sacco L'uno metto Mettiamo sempre il primo No No 87% Vedi Sopra però Le banane Crash Da prendere No Crash Scusami Le banane Ce l'aveva Ma il gioco Nintendo Sicuro Donkey Kong Donkey Kong Super Monkey Ball Potrebbe essere Super Monkey Ball Vediamo L'uno L'uno Interessante Eh Super Monkey Ball C'è un po' Ciao Brock Super Monkey Ball Adventure Proviamo Fai sempre il primo Eh non lo so Qual è il primo Super Monkey Ball Che basta Eh No Gamecube Piattaforma originale Eh non Prova Prova un altro Super Monkey Ball Prova il 2 Andiamo con il 2 Sopra Golf Però vedendo No era Super Monkey Ball 2 Ah ma quindi Era un gioco di golf Eh Beh Sì Qua questa immagine È palesimo Non c'è Parra Yard Il videino finale Sì E andiamo Al 511 Ragazzi Abbiate pazienza Ma che cacchio è Cioè come faccio A indovinarlo Tomb Raider Dai poligoni Metto uno a caso Tomb Raider Ma sì Lo metto a caso 85% di Metacritic È un gioco Siamo a me PS1 Soul Reaver È una galleria Eh Soul Reaver Potrebbe essere Dalla Cioè dalla grafica Ci sta Mountain Non so Qual è Avrei detto Che Metterai Soul Reaver Metti Soul Reaver Io tanto sono No C'è un drago Rosso Original Platform Windows Sei in prima persona La Skyrim Non so se la spada È mia O è qualche pezzo Sì C'è il braccio Io ragazzi Non ho proprio idea Original Marines Non è Medieval Poi non è Windows Non è solo Windows Cioè non è la Windows Non lo so Sì un Dark Fantasy Potrebbe essere Un Dark Fantasy Tranquillamente Però cosa Neverwinter Nights Non lo so No Però è MMORPG MMO E c'è un orco Con un'armatura Ah EverQuest EverQuest Però non è me Non conosco bene Grazie Filo È tutto attaccato EverQuest Oh non ce la sto facendo La giornata del non saper scrivere Sì È proprio EverQuest Ma uno degli primi Che schifo però Questa roba È del 99 Andiamo al clip termole Silenzio Insada Siddhartha Non mi va il gas Ok adesso va Aspetta FIFA Senti senti Ah 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 Niente FIFA 22 Potrebbe essere Bettino Taxi Bettino Taxi Ci abbiamo mai pensato Bettino Taxi era nato Da me Era nato Non mai sentivo mai Fake Taxi A volte Bettino Fake Taxi Sì Allora non l'avevi sentito È possibile No però Corvo Ha un microfono brucioso FIFA 23 No FIFA 20 Corvo ha un microfono di merda Mi sembrava che il microfono di Corvo Era un po' Ma davvero Ma Bettino Taxi È nato da me Io avrei detto qualcun altro C'è che poi Bettino Taxi Noi dicevamo Bettino Fake Taxi Ma fuori live Però sì Madonna mia che imbarazzo Va bene Oddio non mi ricordo qua Come si torna indietro Dai puntini È in alto a sinistra Sì ed era il 2.58 Dobbiamo fare Perché non lo trovo Eccolo qua È l'ultimo Sì sì scusate Eccoci Aspetta Come ci porta Google Maps Qui Non lo so Sentiamo Fatemi vedere cosa ha detto Antonietta Ma non scrivete in caps ragazzi Ho aspettato anche troppo Bisogna capire Ho aspettato anche troppo C'è anche poco da guardare Qua E poi il 57 Vediamo un po' Doppio clic Il video per lo schermo intero Non lo Non c'è niente Non può andare male Volevo far passare da destra Fermo la 1 Ovviamente nella guida Si fa passare È andato già tutto a merda ragazzi È vecchio perché colgo il microfono Sempre del cazio Sono molto Quindi ho 20 Ho già due secondi Ma come possiamo Moro Cosa fai Il Come si guida ragazzi Oh shit Per evitarlo Ho dovuto andare veramente ovunque Non è il 20 Il 21 O 19 Il 19 Il 21 Non è 19 No però c'era Vale Anche Vale non giocava Il 21 Anche perché se non è zuppa E neanche pan bagnato E quell'altra ancora Va bene Cosa succedeva Vabbè casini vari Soliti Va bene Va bene Va bene Chiudiamo qui A posto Abbiamo dato il nostro Ora la rassegna Stone Caliezar Finisce quindi Ciao Irene Apriamo Fortnite My father E salutiamo anche Luco ovviamente Che deve succare Non è vero Luco Ciao Ciao Luco Grazie per il tuo supporto Stasera A stasera Ma sta tranquillo Vector vieni ovviamente Grazie per la rassegnaz